G-80esimo anniversario, un progetto importante per un brand globale prestigioso che oggi ottiene un riconoscimento altrettanto importante perché è riconosciuto come un messaggio a sostegno del ruolo della famiglia nella vita di tutti noi. Mi fa piacere, anzi ci fa piacere a tutti noi che abbiamo lavorato a questo progetto, che il messaggio di questo lavoro sia arrivato in maniera chiara anche nella frenesia di un break pubblicitario. Sono felice a nome di tutto il team di lavoro del Brand Jeep e dell'agenzia Leoburnet di accettare questo premio. Grazie a tutti, davvero. Grazie a tutti.